Oggi è lunedì 27 novembre e parte la nostra campagna elettorale per andare al governo dell'Italia. Mancano poco meno di 100 giorni e in questi 100 giorni dovremo dare il massimo. Io vi assicuro che non mi risparmierò. Da quando sono rientrato dalla Sicilia sono venuto qui in Lombardia e sto incontrando imprese, comitati, agricoltori, professionisti, sindaci, pubblica amministrazione, dipendenti. Sto ascoltando tutti e sto raccontando la nostra idea di paese perché so che se raccontiamo chi siamo le persone cambieranno idea su di noi, anche a causa della demonizzazione che è stata fatta. Il mio dovere in questi mesi sarà quello di raccontare la nostra idea di paese ma soprattutto il nostro progetto per migliorare la qualità della vita degli italiani e garantirgli maggiore felicità. Tutti saremo fondamentali. Non sarà un tour. Io sono un appassionato di gare automobilistiche. Secondo me questo sarà un rally perché abbiamo poco tempo e ci aspettano enormi difficoltà. E come nel rally, al di là che sia notte o giorno, che la strada sia asfaltata o sia sterrata, che ci siano ostacoli o meno, l'importante è che c'è poco tempo e bisogna correre. E questa campagna io vi assicuro che la farò così, col piede sull'acceleratore senza fermarmi mai perché non voglio avere nessun rimorso. Tutti sarete indispensabili. Attivisti, sindaci, consiglieri comunali, consiglieri municipali, consiglieri regionali, parlamentari, europarlamentari. Ognuno di voi farà parte di questa campagna. Presto distribuiremo il materiale, dovremo organizzare iniziative in ogni regione, in ogni provincia, in ogni comune. E io sarò insieme a tutti quanti voi. Ma per finanziare questa campagna abbiamo bisogno del contributo di tutti. Perché, come sapete, noi abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, abbiamo sempre rifiutato connivenze con grandi lobby. Il Movimento lo finanzia chi ci crede. E se credi in questo progetto, fai subito una donazione per la campagna elettorale delle politiche del 2018. Nei prossimi mesi vedrete gli altri che ci attaccheranno. Sarà una campagna in cui noi staremo davanti e condurremo sui temi e sul percorso per portare l'Italia ad essere un paese migliore. E tutti gli altri ci attaccheranno dicendo che siamo poco di buono, che siamo eversivi, che siamo un pericolo per il paese. Ignorateli. Ignorateli perché loro sono indietro e soprattutto fanno promesse dopo aver governato per 20 anni senza realizzarle. Io ce la metterò tutta, mettiamocela tutti quanti insieme. Iniziamo dalle donazioni di questa campagna elettorale e ci vediamo al traguardo, probabilmente il 4 marzo, data delle elezioni politiche.